Il castello nel quale il mio domestico aveva osato entrare con la forza per non permettere che io, nella mia condizione di ferito grave, trascorressi una notte all'aperto, era uno di quegli edifici commisti di malinconia e splendore, che così a lungo sono stati una presenza accigliata fra gli appennini, non meno di fatto che nella fantasia della signora Radcliffe. Era stato temporaneamente e molto di recente abbandonato, a quanto si poteva vedere. Ci stabilimmo in una delle stanze più piccole e arredate e meno sontuosamente. Si trovava in una remota torretta della costruzione. I suoi ornamenti erano ricchi, ma rovinati e antiquati. I muri erano rivestiti da razzi e decorati con trofei araldici vari e moltiformi, insieme con un numero insolitamente grande di quadri moderni, molto vivaci, in cornici e riccamente arabescate d'oro. Per questi dipinti, che pendevano non solo dalle superfici principali dei muri, ma in moltissimi recessi che l'architettura bizzarra del castello aveva inventato, per questi quadri il mio delirio incipiente e forse mi aveva fatto provare profondo interesse. Cosicché comandai a Pedro di chiudere le pesanti imposte della stanza, poiché era già notte, di accendere i bracci di un alto candelabro che stava al capezzare del mio letto e aprire completamente le cortine di velluto nero ornate di frange che nascondevano il letto stesso. Desideravo tutto questo per potermi abbandonare se non al sonno, almeno alternativamente alla contemplazione di questi quadri e alla lettura attenta di un volumetto che avevo trovato sul guanciale e che si proponeva di criticarli e descriverli. A lungo, Lessi, a lungo e devotamente rimirai, devotamente. Le ore volarono rapide e splendide e venne la mezzanotte oscura. La posizione del candelabro non mi piaceva e allungando la mano con difficoltà, piuttosto che disturbare il mio domestico addormentato, lo collocai in modo che proiettasse meglio i suoi raggi sul libro. Ma l'azione produsse un effetto del tutto imprevisto. Le luci delle numerose candele, ce n'erano molte, ora andavano a cadere in una nicchia della stanza che fino a quel momento era stata messa in ombra profonda da una colonnina del letto. Vedi così in piena luce un quadro passato del tutto inosservato prima. Era il ritratto di una giovinetta quasi sul punto di divenire donna. Gettai uno sguardo frettoloso al quadro e poi chiusi gli occhi. Perché io lo feci non fu all'inizio chiaro neanche a me, ma mentre le mie palpebre rimanevano chiuse esaminai rapidamente nella mente le ragioni per cui le tenevo così chiuse. Era stato un atto impulsivo per guadagnare tempo e pensare, per esser certo che la vista non mi avesse ingannato, per calmare e dominare la mia fantasia e indurla a una contemplazione più calma e sicura. Dopo pochissimi momenti tornai a guardare di nuovo, fissamente, il quadro. Che ora vedessi giusto non potevo né volevo dubitare. Poiché il primo berlume delle candele su quella tela era sembrato dissipare lo stupore di sogno che aveva sorpreso i miei sensi per riportarmi all'improvviso, alla vita vigile. Il ritratto, l'ho già detto, era quello di una ragazza che raffigurava solo testa e spalle in quello che è tecnicamente chiamato uno stile vignetta, molto nello stile delle teste preferite di sullì. Le braccia, il petto e persino le estremità dei capelli radiosi si fondevano impercettibilmente nella vaga ma profonda ombra che formava lo sfondo dell'insieme. La cornice era ovale, riccamente dorata e filigranata all'amoresca. Come oggetto d'arte niente poteva essere più mirabile del dipinto stesso, ma non poteva essere stata né l'esecuzione del lavoro né la bellezza immortale del volto che mi avevano così repentinamente e violentamente commosso. Meno di tutto poteva essere stato che la mia fantasia scossa dal suo dormiveglia avesse preso la testa per quella di una persona viva. Capì subito che le peculiarità del disegno, della vignettatura e della cornice avrebbero immediatamente dissipato una simile illusione, anzi mi avrebbero addirittura impedito di soggiacervi anche un solo istante. riflettendo con impegno su questi aspetti rimasi forse un'ora, mezzo seduto, mezzo disteso, con gli occhi fissi sul ritratto. Alla fine, soddisfatto del vero segreto del suo effetto, mi lasciai ricadere sul letto. Avevo scoperto che il fascino del quadro consisteva in una assoluta realistica vitalità di espressione che all'inizio mi aveva stupito, infine confuso, conquistato, spaventato. Con profondo e rispettoso timore ricollocai il candelabro nella posizione precedente. Allontanata così dalla vista la causa della mia profonda agitazione, cercai ansiosamente il libro che parlava dei dipinti e della loro storia. Giunto al numero che indicava il ritratto vale, vi lessi le parole vaghe e strane che seguono. Era una fanciulla di rarissima bellezza e non meno soave che piena di gioiosità. E funesta fu l'ora in cui vide, amò e sposò il pittore. Lui appassionato, sollecito, studioso, austero e già sposato con la sua arte. Lei, una fanciulla di rarissima bellezza e non meno soave che piena di gioiosità. Tutta luce e sorrisi e vivace come una cerbiatta, amante e appassionata di tutte le cose. Odiava solo l'arte che era la sua rivale, temeva solo la tavolozza e i pennelli e gli altri strumenti spiacevoli che la privavano della vista del suo amato. Fu dunque una cosa terribile per questa donna udire il pittore parlare del suo desiderio di ritrarre anche la sua giovane sposa. Ma era umile e obbediente e posò per molte settimane docilmente nell'oscura e alta camera nella torretta dove la luce scendeva sulla bianca tela solo dall'alto. ma egli il pittore si gloriava solo della sua opera che procedeva di ora in ora e di giorno in giorno. Era un uomo appassionato, ombroso e lunatico che sognava a occhi aperti cosicché non voleva accorgersi che la luce che cadeva così spettralmente in quella solitaria torretta faceva deperire la salute e la vivacità della sua sposa che sfioriva visibilmente per tutti tranne che per lui. Tuttavia ella sorrideva ancora e sempre senza lamentarsi e perché vedeva che il pittore che aveva grande notorietà traeva un piacere intenso e ardente dal suo lavoro e lavorava notte e giorno per ritrarre lei che tanto lo amava ma che diveniva di giorno in giorno più spenta e debole. E in verità chi contemplava il ritratto parlava della sua somiglianza in parole sommesse come di una grandissima meraviglia, una testimonianza non meno della capacità del pittore che del suo profondo amore per colei che veniva ritraendo in modo così incomparabile. Ma alla fine e mentre l'opera si avvicinava alla conclusione nessuno fu più ammesso nella torretta, divenuto folle nell'ardore della sua opera. Il pittore distoglieva raramente gli occhi dalla tela anche solo per osservare il volto della sposa e non voleva accorgersi che i colori che stendeva sulla tela erano sottratti alle gote di lei che gli sedeva vicino. E quando molte settimane furono passate e solo poco rimaneva da fare, una pennellata sulla bocca e una sfumatura sull'occhio, lo spirito della donna guizzò di nuovo come la fiamma nel bocciolo della lampada. E allora fu data la pennellata e la sfumatura fu posta e per un attimo il pittore rimase estasiato davanti all'opera che aveva compiuto, ma subito dopo, perso ancora nella contemplazione, divenne tremante e molto pallido e atterrito gridando con una voce forte, questa è che davvero la vita stessa. Si voltò improvvisamente a osservare la sua amata. Era morta.